Ciao a tutti amici di CityKeyit, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel nuovo video della settimana dedicato ai giochi in uscita questa settimana. Oggi parliamo di tre giochi davvero molto importanti e soprattutto gli uni diversi dagli altri che assolutamente dovete tenere d'occhio le date di uscita. Quindi rimanete insieme a me in questo fantastico video e discutiamo e parliamo di più di questi tre importantissimi giochi, soprattutto uno sono sicuro che già lo conoscete. Quindi il primo è l'Early Access di Grounded, il secondo è sempre in Early Access ed è Little Witch Nobeta, il terzo è il mondo meno importante FIFA 2023. Quindi rimanete insieme a me e parliamo insieme e discutiamo di questi tre importantissimi giochi. Quindi il primo come vi ho detto è in Early Access, uscirà comunque presto in Early Access ed è un gioco che potete giocare online con i vostri amici. Potete personalizzare il vostro personaggio e giocare tutti quanti insieme in queste fantastiche avventure super colorate e anche un po' ci sarà pure il cosiddetto puzzle game. Quindi mi raccomando approfittate perché è un gioco davvero molto particolare ed è già scontato del 6% sul nostro sito di CDK.it. Sarà disponibile sia per Xbox che per PC e uscirà il 27 settembre. Quindi mi raccomando non perdetevi questo gioco se volete giocare a qualcosa con i vostri amici, è davvero un sacco, è stra divertente. Il secondo gioco invece di cui parleremo è anche qui in Early Access e forse qualcuno di voi avrà visto qualche gameplay o comunque qualche altro trailer. Ed è quindi Little Witch Nobeta Early Access che già adesso è scontato del 40% sul nostro sito. Quindi nel caso approfittate perché sembra essere un gioco davvero molto particolare e sarà disponibile per PC, Playstation e Switch. Ed è strano a dirsi. E praticamente è un Souls-like. È un Souls-like però molto carino, kawaii, puccioso, insomma forse molto più facile rispetto ai classici Dark Souls simili. Però il concetto sarà quello in stile giapponese anime. Quindi se siete appassionati di questo genere tenete d'occhio la data di uscita che è il 29 settembre. Invece è l'ultimo gioco ma non me l'importante perché penso che lo conosciamo tutti quanti questo brand e soprattutto so che stavate aspettando il nuovo capitolo di FIFA 2023. Che uscirà molto presto il 30 settembre. Quindi manca veramente poco e sono sicura che in molti siano interessati a questo gioco. Soprattutto con le novità delle squadre calcistiche anche femminili. Anche perché c'è anche una donna che fa parte della copertina di gioco. Quindi un grande cambiamento. Ce ne sono anche tantissimi altri grandi cambiamenti nel nuovo capitolo di FIFA. Quindi approfittate perché già adesso è scontato del 41%. Non perdete quindi l'uscita di questo fantastico gioco. Noi questo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi. Ma vi ricordo di salvare i preferiti, il nostro sito, il nostro compratore di prezzi. Per sapere i prezzi più bassi per videogiochi, abbonamenti, gift card e tanto altro. E non dimenticate anche di unirvi al nostro server di Discord per partecipare a tanti fantastici giui. E non vi dimenticate anche le altre prossime uscite degli prossimi giorni. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao ciao.